Discendo da una stirpe millenaria che vanta i migliori cacciatori di mostri che siano mai esistiti. Anche nei giorni migliori non mi sento adeguata. Mi sembra che gli altri abbiano capito tutto. Eh sì, ecco, non l'ho detto a nessuno, ovviamente. Tu sei un vampiro originario. I vampiri comuni vorrebbero tanto vedere il loro riflesso in uno specchio. Siamo cacciatori. Ma soprattutto, tu sei mia figlia. Per questo abbiamo deciso che sei pronta per la prima caccia ai mostri che uccideremo. Il tuo corpo sta cambiando. Sì, il mio corpo. Dovrai affrontare la tua prima uccisione al più presto. Ciao. Sei Juliet, giusto? Sì. Tu sei Calliope? Cal, va bene. Chi sei tu, Calliope Burns? Da dove vieni? Ma non sei come i mostri che ho sempre odiato. Voglio vivere la mia vita. Non potete stare insieme. Non potrà mai funzionare. Ti ho proibito categoricamente di vederla. Non dobbiamo farlo per forza. I miei sentimenti sono reali. Juliet e ogni originario a Savannah moriranno stanotte. Corri, vattene subito. Tieni a bada le zanne e non avremo problemi. Avremo sempre dei problemi. Ho dovuto scegliere tra te e la mia famiglia. E ho scelto la mia famiglia. Ma che mi dici di noi? I mostri e gli umani si sono messi tra di noi. Abbiamo affrontato qualunque cosa. Possiamo farcela. I'll kill for you. Ma che mi dici. Grazie a tutti.